Salve a tutti, qui Divus che vi parla e vi dà il benvenuto a questo nuovo video. Godzilla King of the Monsters, a mio avviso, si attesta come il miglior film del Monsterverse, grazie anche alla presenza del potente re Ghidorah. Il mostro a tre teste, rivale mortale del nostro amato campione Godzilla, è stato in grado di scatenare l'apocalisse, venendo però sconfitto alla fine da un Godzilla più potente che mai. In questo video tratteggerò alcuni scenari alternativi, un po' in stile what if, partendo da una semplice domanda. Che cosa sarebbe successo se il re Ghidorah avesse vinto? Come premessa ai vari scenari, partiamo da un momento ben preciso e molto importante di King of the Monsters, lo sgancio della bomba Oxygen Destroyer. Ripassino rapido, l'esercito degli Stati Uniti, dopo la traumatica esperienza vissuta con i muto, ha sviluppato un'arma pensata per distruggere l'ossigeno in una vasta area, uccidendo così qualsiasi creatura che si trovi nel suo raggio d'azione. In Godzilla 2 la bomba viene sganciata a largo di Isla de Mara, dove Godzilla stava combattendo con successo contro Ghidorah, arrivando addirittura a staccare una delle teste al falso re. La bomba esplode, Ghidorah se ne infischia altamente in quanto creatura non terrestre, mentre Godzilla accusa duramente il colpo. Ecco, immaginiamo che il re dei mostri non riesca a riprendersi, morendo definitivamente. La Terra ha perso il suo più grande protettore, il vero nemico giurato di Ghidorah. Seguendo quanto accade nel film, il mostro a tre teste scatena la furia di tutti i titani, i quali si risvegliano e attaccano l'umanità un po' dappertutto. Il piano di Jonah si compie e l'estinzione sembra quasi inevitabile. L'ultima speranza dell'umanità è la Monarch, l'agenzia segreta che da decenni studia e protegge i titani. Un tassello fondamentale nel tentativo di salvare l'umanità potrebbe essere l'Orca, un dispositivo sperimentale pensato per comunicare con i titani, tramite specifiche vibrazioni e suoni, capaci addirittura di alterare il comportamento dei titani stessi. È plausibile che la giovane Madison, esattamente come fa in King of the Monsters, riesca a fermare i titani risvegliati usando appunto l'Orca. Nel resto, in quel frangente, Godzilla non gioca un ruolo attivo, quindi ha senso che possa ripetersi almeno lo stop della furia dei titani nel mondo. Ma l'elefante resta nella stanza, permane il problema di neutralizzare in qualche modo Ghiora. Diamo ufficialmente avvio agli scenari. Partiamo dallo scenario forse più banale, la vittoria totale di Re Ghidorah. Senza più Godzilla a fermarlo, Ghidorah comincia a seminare il caos ovunque voglia. Motta da sola non può farcela, anche lei muore almeno al momento. Il mostro a tre teste scatena uragani e tempeste ovunque al suo passaggio, creando alluvioni e inondazioni senza precedenti. È plausibile che l'umanità, ormai disperata, avrebbe sganciato altre Oxygen Destroyer, se disponibili, o forse varie testate nucleari. Sarebbero bastate? Burning Godzilla ha ucciso Ghidorah esplodendo, ma credo che l'abbia fatto con un livello di energia fuori scala. Quindi è plausibile che le testate termonucleari non bastino ad eliminare il mostro extraterrestre. La terra, stremata dalla guerra contro Ghidorah, diviene un luogo sempre più inospitale. La razza umana cerca rifugio lontano dall'influenza del nuovo re. C'è chi vive nei bunker, c'è chi cerca riparo in aree remote. La fine del mondo, per come la conosciamo, è ormai realtà. Ghidorah è il nuovo re, e non solo dei mostri, ma anche della terra. Se egli fosse stato realmente creato da qualcuno, allora in questo momento la razza responsabile forse sarebbe comparsa per prendersi il nostro mondo, alterato secondo gli standard impressi in Ghidorah. Avete capito comunque, questo scenario vede il trionfo totale del demone dorato. Con Godzilla ormai fuori dai giochi, a chi potrebbe rivolgersi l'umanità per combattere contro Ghidorah? L'unico altro vero campione è ovviamente Kong. Durante l'attacco di Ghidorah, Kong si trova a Skull Island, dove dovette fare i conti con il titano Kamazots, un gigantesco pipistrello succhia sangue. Kong riuscì ad eliminare tale minaccia, grazie anche all'aiuto di una squadra di piloti della Monarch. È plausibile che la stessa Monarch abbia pensato a lui come ultima speranza contro Ghidorah. Allora parliamoci chiaro però, Kong non è riuscito a battere Godzilla in Godzilla vs Kong, nonostante fosse dotato della sua ascia. Senza di essa, il combattimento sarebbe stato ancora più unilaterale. Il problema è che ai tempi di King of the Monsters, Kong non aveva la sua ascia, in quanto giaceva ancora nella terra cava. Mandarlo a mani nude contro Ghidorah sarebbe equivalso a una condanna a morte per lo scimmione. Facciamo quindi ancora un passettino più avanti. La Monarch, collaborando con la tecnologicamente evoluta Apex, forse sarebbe riuscita a velocizzare lo sviluppo dei mezzi necessari a scendere nella terra cava. Nel frattempo Ghidorah infuriava seminando morte e distruzione. Gli eserciti della terra avrebbero potuto rallentare o tentare di rallentare il nuovo re, facendo guadagnare tempo alla missione al centro della terra. Presupponiamo che tutto si svolga più o meno come in Godzilla vs Kong. Kong collabora, arriva al suo trono, prende l'ascia caricandola di energia e riemerge per affrontare non Godzilla ma Ghidorah. Ghidorah e Kong alla fine si fronteggiano, pronti a un combattimento all'ultimo sangue. Ovviamente gli umani tentano di aiutare Kong in ogni modo, schierando le ultime forze militari. Se Mothra fosse ancora in vita, anche lei probabilmente si unirebbe allo scontro. Qui però lascio decidere a voi. Kong armato di ascia e aiutato dall'umanità, sarebbe riuscito a sconfiggere Ghidorah? Io ho un po' di dubbi, ma non mi sento di darlo per sconfitto al 100%. Torniamo un momento al discorso Orca. Come dicevo, questo dispositivo è in grado di influenzare il comportamento dei titani, facendoli passare da aggressivi a mansueti e viceversa. E se l'umanità avesse usato l'Orca o una sua versione migliorata per mandare tutti i titani del pianeta contro il falso re, Ghidorah singolarmente è decisamente più potente dei vari Rodan, Behemoth, Shilla, Metusela, Mutuquin, eccetera. Ma mandarglieli contro tutti insieme potrebbe metterlo un po' in difficoltà. Il demone dorato potrebbe anche decidere semplicemente di volare via per leccarsi le ferite e poi tornare alla carica cercando di isolare i titani per colpirli uno a uno. Qualora i titani riuscissero ad uccidere Ghidorah, qualcuno sarebbe diventato il nuovo re o regina. Fatto ciò i titani avrebbero sanato le ferite della nostra casa, alias il pianeta Terra, e vissero tutti felici e contenti, sempre che Destoroyah non decida di spuntare dall'oceano. Rimaniamo sempre sul versante orca. In King of the Monsters Ghidorah più volte reagisce ai richiami sonori dell'apparecchio, e se fosse possibile utilizzarlo per indurre un letargo forzato nel demone? Studiando una frequenza specifica, forse la Monarch avrebbe potuto addormentare il mostro a tre teste, fermando almeno per un po' la sua furia. Ovviamente non è detto che l'orca possa avere questi specifici effetti su Ghidorah, quindi è uno scenario molto ipotetico direi. E dulcis in fondo ci teniamo lo scenario più pacchiano ed esagerato di tutti. Presupponiamo che la Monarch, insieme alla già menzionata Apex, riesca a recuperare il corpo di Godzilla o parti di esso. Il progetto Mechagodzilla della Apex sarebbe stato riconvertito nel progetto Cyborg Godzilla, unendo parti meccaniche a parti organiche. Avrebbe funzionato? Chissà, come dicevo, questo è lo scenario più oltre i confini del plausibile anche per una saga fantasiosa come il Monsterverse. Volendo, l'umanità avrebbe potuto recuperare anche la famosa testa di Ghidorah strappata da Godzilla, ripercorrendo così ciò che ci viene mostrato alla fine di King of the Monsters. In Godzilla vs Kong abbiamo visto come utilizzare la testa di Ghidorah non sia stata esattamente una grande idea. Mechagodzilla è sfuggito con facilità al controllo della Apex, seminando caos e morte ad Hong Kong. Chissà cosa sarebbe successo con Ghidorah ancora in vita. Provandosi di fronte il Mechagodzilla, forse sarebbe addirittura riuscito a controllarlo tramite un legame psionico innato. Anche qui la fantasia sta veramente volando all'estremo. Direi che dopo questo scenario possiamo fermarci qui. Forse si potrebbero immaginare altri scenari sempre più bizzarri e pazzerelli, ma credo di aver parlato già abbastanza. Basandomi su quanto visto nei film del MonsterVerse, credo che senza Godzilla praticamente nessuno avrebbe potuto fermare Ghidorah, il quale avrebbe trionfato alterando il mondo a suo piacimento. L'umanità credo che sarebbe sopravvissuta in qualche modo, anche se ridotta in numero e con uno stile di vita da età della pietra o quasi. Chissà, forse saremo tornati a disegnare sagome sui muri, immortalando il demone divenuto re, il re divenuto signore del mondo. Spero che questo video a tema MonsterVerse vi sia piaciuto. Era da tanto tempo che non parlavo di Godzilla e Co e mi sono divertito nel farlo, lo ammetto. Se appunto questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e perché no attivate la campanella, qui troverete altri video sul MonsterVerse, ma anche su Jurassic Park, sul cinema, eccetera. Se volete supportare le mie creazioni potete farlo attraverso la funzione abbonamenti oppure Paypal e TP, link in descrizione. Cercatemi come Lorenzo Divus sia su Facebook che su Instagram. Vi ringrazio per l'ultima volta e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!